Salve, ben ritrovati nel nostro spazio dedicato al pediatra di fiducia. Oggi con il dottor Paparone parleremo di punture di insetti. È facile, insomma, siamo in estate, venire a contatto con api, calabroni, zanzare. Cosa fare in questi casi? Il contatto con uno di questi insetti può essere fastidioso e a volte anche pericoloso. Quello più comune è quello delle zanzare. Il zanzare generalmente non è pericoloso, ma è molto fastidioso. Anche queste a volte possono dare reazioni allergiche importanti. In questi casi, nel caso delle punture delle zanzare, la cosa principale è quello di usare degli spray repellenti, in modo tale che non si avvicinano particolarmente durante la notte, perché durante il giorno più o meno riusciamo a proteggerci. E poi l'uso di qualche pomadina al cortisone nelle zone dove siamo stati punti. È più fastidioso e più pericoloso è invece il contatto con altri insetti, i quali api, vespe, calabroni, in quanto questi qui possono determinare anche reazioni allergiche importanti. E' bene sapere che in genere la prima puntura con uno di questi insetti non comporta grossi rischi, oltre al fastidio di essere punti e di una reazione locale. Dalla seconda puntura in poi il rischio aumenta progressivamente, in quanto il nostro corpo può cominciare a fare anticorpi e dunque man mano che sarà il livello si può arrivare ad avere anche una reazione anafilattica alla puntura di qualcuno di questi insetti. Come possiamo ridurre il rischio? Ogni volta che ci punge uno di questi insetti è utile la somministrazione di una dose di cortisone. Perché? Perché il cortisone blocca la produzione di anticorpi e dunque il rischio di avere uno sciocca anafilattico alle successive punture si riduce notevolmente. Può essere utile anche la somministrazione di un antistaminico, questo usato però per 4-5 giorni. e se adoperiamo queste accortezze sicuramente non arriveremo ad avere un sciocca anafilattico. Anche per questa puntura, per ridurre il fastidio, è utile la somministrazione locale di una pomatina al cortisone. Spesso si vede nei bambini più piccoli magari l'uso di alcuni cerottini per evitare appunto le punture di zanzara. Sono efficaci? Alcuni sono efficaci, dipende dall'odore. Alcuni insetti non sopportano odore, alcuni insetti un altro odore. I repellenti sono la prima linea di difesa, in quanto l'insetto percepisce un odore non gradevole e non punge. Le mamme spesso li posizionano sulle gullette dei bambini oppure sugli abitini in modo tale da allontanare le zanzare o gli insetti in generale? Sono validi, non tutti, ma alcuni sono veramente validi perché impediscono che l'insetto si avvicini.